Salve a tutti sono Trenas e benvenuti a questo nuovo video, questo nuovo video di Overwatch ragazzi finalmente è arrivata Oggi è uscita effettivamente l'open beta di Overwatch che è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One Su PC e Playstation 4 potete trovarla per PC su battle.net, su Playstation 4 e Xbox One invece nello store tranquillamente la disponibile Una volta scaricato potrete entrare, farete un account battle.net Questo gioco non è assolutamente semplice, anzi tutto il contrario, vi consiglio di fare almeno la base Le fasi di addestramento iniziali vi aiutano più che altro a abituarvi al fatto che non solo dovrete sparare ma dovete anche usare un sacco di abilità E che queste abilità fanno un'enorme differenza per ogni singolo eroe Ogni eroe non è solo la sua capacità di sparare ma ha proprio la sua capacità di influire sul campo di battaglia attraverso le sue abilità Quindi fatevi un giro, tutti gli eroi sono gratuiti quindi non preoccupatevi, potrete provarli quanto volete e come volete E divertirevi come dei pazzi Ricordatevi che ogni volta che è arrivata la selezione dell'eroe dovete fare una cosa molto semplice Guardare sul lato destro dello schermo in cui potrete vedere effettivamente che viene suggerito dal gioco stesso Come creare la vostra composizione di team in maniera da avere un team bello omogeneo e bilanciato per avere sia danni che difesa che utilità In maniera da poter fare tutto quanto Insomma questo gioco prova a tenervi per mano e aiutarvi più che può a queste fasi iniziali di gioco Per quanto riguarda le opzioni ci sono un sacco di opzioni che potete attivare che sono molto utili Soprattutto il kill feed cioè sapete come appaiono in alto a destra solitamente le morti, le uccisioni degli alleati Potete andarlo a attivarlo nel menu opzioni, una cosa tranquilla da ricordarvi che magari torna spesso molto utile a tanti di voi Ragazzi ci sono 4 mani del gioco, è davvero divertente, sparatevi un sacco di partite E sapete anche cosa? Dovreste unirvi come team Perché come team? Perché come forse voi saprete ci saremo anche noi due team all'interno della BOP In beta ci stiamo allenando come dei pazzi per riuscire a sconfiggere i nostri avversari Io più che altro devo sconfiggere Power Cioè ragazzi lui è un mostro a Call of Duty ma io voglio vincere ad Overwatch Overwatch si può vincere anche contro un avversario che è effettivamente così bravo come lui Quindi ragazzi io sono pronto, i miei compagni di team sono pronti Unitevi all'open beta, divertitevi come pazzi, venite a trovarci contro Se ci trovate contro per favore siete magnanimi perché Dexter è scarso come la merda E gli sto spiegando un po' come si deve fare Ci vediamo in beta ragazzi, io sono Terenas e ci vediamo al prossimo video Bella Allora, vediamo di spaccare un po' di culi, maledizioni Ok, fuori uno Ok Perfetto così Perfetto Oh cazzo, scimmia di merda Io ho la ultimate ma non posso usarla praticamente Ok, ora posso Maledi te, porca puttana Mentre io ero là a pianificare il tutto Sapevo che se la usavo mi avrebbero ucciso Tempo supplementare Mamma mia, li abbiamo rectati troppo facile Lol Mi ha spinto giù di sotto Però abbiamo vinto sti cazzi Su un serio un tizio da solo si sta prendendo il nostro punto Dai, forza Ma sei serio? Ma sei potutamente serio? Ma dai Cioè, il tizio mi è arrivato dal lato Che cacchio è? Vaffanculo, stronzi Eh, però gli posso ucciderne quanti ne voglio Ma se il mio team non mi aiuta Aiutatemi a ucciderli per favore Eh, il problema Sapete qual è il grosso problema? Il grosso problema è che tipo loro ci stanno recta Oh, oh Siamo riusciti a difendere? Da quando siamo riusciti a difendere? Mamma mia Mamma mia Abbiamo ucciso gente Sono felice No, no mate Non è capito un cazzo No, mi serve qualcosa che può stare così vicino Cosa che hanno tipo soltanto Reinhardt E tipo continuano a lanciarci contro i muri È una cosa orribile È una sensazione orribile Dannazione Ci ho provato Due uccisioni non fatte Però sono troppi sti qua Sono effettivamente troppi Uh No, 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 no Uh Oh, baby Aiuto Aiuto Il muro mi ha Mi ha pregato Più che aiutarmi Maledetto sto qua Ma quanti cazzo di Reinhardt ci sono Basta con questi Reinhardt Ah, serie di 10 uccisioni Dai, voglio fare la serie da 15 Io voglio fare la serie da 15 Oh, cazzo Oh, cazzo Cazzo, cazzo, cazzo No La mia serie da 10 No Voglio fare la serie da 15 Mamma mia Mamma mia Ali 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 Come ha trovato la miglior cosa Vabbè Cosa avrà fatto Eh, minchia No, ha fatto una bella No, ha fatto una cosa figa Ha fatto una cosa figa Ok, ok Ci sta Ci sta che abbia fatto una cosa figa Sneaky, sneaky Non sanno dove sono Hihihi Ma non sanno davvero Ma c'è qualcuno a difendere? Non c'è nessuno a difendere What the fuck? C'è top Qualcuno sta nel posto Senza nessuno che lo difende Qualcuno sta arrivando Qualcuno sta arrivando Oh, cazzo Maledizione Che cazzo Era quella roba Sono 5 Roadhog What the fuck? Sono 5 Roadhog E una treaser Stronzo 1 Stronzo 2 Stronzo 3 Oh, baby Oh, baby What are you doing? Oh, no Oh, no Ne è morto un altro Guarda quanta gente muore E torna a me Oh, oh, oh 5 uccisioni Oh, 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 oh Ah, mamma mia Buongiorno alle signori tattiche Certo che scorto il carico Ma che stanno facendo? Stanno trollando What? Ma che stanno facendo? Non capisco Aspetta che mi prendo la cura qua Sono confuso da quello che stanno facendo questi tizi Ok, devo andare lì da dietro Ah, ok Il mio alleato ha già fatto tutto What the fuck? Sti 5.000 Roadhog Mi fanno paura Oh, oh Sono stato sbalzato in aria Oh, oh Ho buttato nel cesso tutta la mia killing spree Perché non so lanciare una bomba Ok, sedi da 5 Sedi da 6 Sedi da 7 Oh, baby Oh, baby Dammi un po' di kills Possiamo spostare sta macchina, per favore Perfetto L'ho mandata a casa Bello che mi stanno facendo fare tutto a me Sono inarrestabile? Sono inarrestabile? Boh Mamma mia Trissor se la tira un sacco Guarda come se la zende Oh, l'ho preso Oh, cazzo Serie da 10 No, perché uccide me? Perché uccide? Oh, arrivo a 10 Ogni volta muoio in qualche modo stupido Ma porca miseria No, cacchio Non sono riuscito a ucciderlo Non ho anche l'altro Manca ho 10 secondi Andate verso il coso Andate verso il carico Non c'è nessuno sul carico Nessuno No Andate verso il cattro Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno